Benvenuti amici di Anduma Show, oggi in trasferta al palazzetto dello sport di Cuneo e l'ospite è il capitano, possiamo dirlo, c'è solo un capitano come gritano i tifosi e il nostro capitano è Jacopo Botto, mi fa piacere averti ospite di nuovo perché tu sei già venuto alla nostra trasmissione e con Jacopo che è un po' la bandiera di questa squadra, abbiamo tante cose da raccontare, intanto parliamo di questa ultima partita, un tie break che non è andato benissimo, però comunque la prestazione in generale della squadra non è stata malvagia, è stata una buona prestazione, è mancato un po' solo quel risultato. Sì, ciao a tutti, è mancata la vittoria, venivamo da una situazione complicata, abbiamo avuto dei problemi di influenza che c'è in questo periodo, quindi siamo arrivati a Siena in emergenza, abbiamo giocato contro una squadra che in questo momento sta esprimendo un'ottima pallavolo, ha trovato il suo equilibrio e darà fastidio sicuramente da qui alla fine della stagione e secondo me riuscirà ad entrare anche nei playoff, quindi abbiamo giocato a viso aperto, ci abbiamo provato, abbiamo ottenuto comunque un punto molto importante per la classifica e adesso diciamo la testa deve andare alla prossima partita. Devo dire che la prossima partita è quella che andiamo un po' a esaminare, la partita contro Lago Negro, vedrai ritorno anche Jacopo di alcuni ex importanti come Matteo Pistolesi, come Paolino Bonola e ancora altri e devo dire che da adesso in avanti io credo che tutti gli incontri saranno difficilissimi per raggiungere questo grande obiettivo che è quello dei playoff. Sì, come hai detto a te affronteremo una squadra in cui ci sono molti ex, quindi si sa che quando si giocano queste partite gli ex danno sempre qualcosa in più. Noi ci stiamo preparando bene e sappiamo l'importanza di questi punti, dobbiamo cercare di portare tutti i punti disponibili a noi per i playoff e sarà una partita difficile, dovremo metterli sotto fin da subito, esprimere il nostro miglior gioco e poi sono sicuro che anche il pubblico ci darà una mano. Quel pubblico che vi ha sempre sostenuto, insomma non possiamo dimenticare la grande cornice della Coppa Italia, insomma tutto quello che poi in questa stagione i tifosi e tutto il pubblico intervenuto ha fatto sicuramente per voi, è stato sicuramente anche quel giocatore in più in alcune occasioni. Facciamo un piccolo bilancio anche di questo tuo ritorno a Cuneo, insomma io ti vedo crescere sempre di partita in partita, questo credo che sia stata un po' una conferma quella che c'è stata della tua crescita e delle tue prestazioni che sono sempre importanti. Sì, sì, diciamo che durante la stagione sono cresciuto, diciamo che poi non era iniziata nel miglior dei modi perché ho avuto un infortunio da Caviglia che mi ha tenuto fuori un po', quindi poi per ritrovare il ritmo partita ci è voluto un pochettino di tempo, però insomma sia io che la squadra stiamo crescendo, quindi l'importante è crescere tutti insieme per raggiungere i nostri obiettivi, che adesso in questo momento è cercare di raggiungere la posizione più alta possibile, visto che ci sono ancora nove punti disponibili, dobbiamo cercare di prenderli tutti, quindi... E poi come hai detto te prima, il pubblico ci sta aiutando tanto, ci segue anche in trasferta, c'è da fare sicuramente un applauso ai Blue Brothers perché insomma ci sono vicini, sono venuti anche a Siena, ha fatto una trasferta di due giorni, quindi insomma loro ci stanno aiutando e sono convinto che saranno ancora più importanti per il proseguo della stagione e soprattutto per i play-off. Bene, grazie naturalmente al nostro capitano e come sempre invitiamo tutti quanti a venire al palazzetto a sostenere la nostra squadra e lo facciamo con il nostro slogan, che te lo lascio dire per l'ennesima volta con molta grinta, vai! Anduma, grazie a Jacopo Botto, non andate via amici di Anduma Show perché tra poco faremo un piccolo trasferimento, andremo a una palestra che è quella dell'ITIS dove si allenano le formazioni giovanili della Cuneo Volley e lì conosceremo anche quelli che sono gli allenatori, i responsabili del settore giovanile della Cuneo Volley. Tra poco ancora Anduma Show. Anduma Show continua dopo aver sentito il nostro capitano Jacopo Botto, ci siamo trasferiti alla palestra dell'ITIS dove si allena il settore giovanile. Diamo il benvenuto di nuovo a Daniele Verniaghi che è responsabile del settore giovanile della Cuneo Volley che è stato già nostro ospite, però facciamo un po' il punto della situazione. So che ci sono delle novità, i campionati sono ripresi, so che un paio di ragazzi vi stanno dando anche grosse soddisfazioni perché sono stati selezionati a livello nazionale. Devo dire che qualche novità importante c'è Daniele. Sì, come dicevi tu, si continua a lavorare, siamo arrivati a un punto dei campionati in cui iniziano le fasi regionali che sono le fasi più belle naturalmente, sono le fasi più accese perché comunque incontriamo squadre molto buone, qualificate della regione per poter giocare naturalmente tutte le nostre chance per andare poi eventualmente alle finali nazionali. Questo è naturalmente il nostro obiettivo. Abbiamo avuto, come dicevamo, un mese di stop per quanto riguarda le partite. I ragazzi però si sono continuati ad allenare, infatti devo comunque ringraziare la società perché comunque ci ha dato sempre la possibilità di allenarci in questa struttura che è la nostra casa, che è la palestra dell'ITIS e quindi da questo punto di vista il lavoro sta continuando. Due ragazzi convocati in selezione regionale, Peano e Bellanti, due ragazzi che stanno facendo una bellissima esperienza a Roma, una settimana di allenamenti duri, li ho sentiti, sono ragazzi fortunati perché stanno vivendo questa bellissima esperienza. Ci sono coordinati anche, lo ricordiamo, da Velasco e anche da un'attreta molto importante. Certo, Velasco che è responsabile delle squadre giovanili nazionali, da Monica Cresta che è anche lei il supervisore per quanto riguarda quella fascia d'età. Insomma, noi come Cunio continuiamo a lavorare sul giovanile, continuiamo a sperare che naturalmente qualcuno arrivi in prima squadra fatto salvo che comunque con i nostri numerosi ragazzi abbiamo uno zoccolo duro molto importante e quindi lavoriamo non soltanto per quelli che possono progredire ma anche con gli altri per fare una buonissima esperienza di vita e di sport. Grazie, grazie Daniele e Anduma naturalmente, dai, tra poco ancora alcune interviste. Di nuovo Anduma Show e ancora parliamo di settore giovanile insieme con Alessandro Marino che coordina un po' naturalmente i rapporti tra la società e il settore giovanile. Tu sei anche molto vicino, insomma, sia alla prima squadra che a tutti i ragazzi perché poi ci sono anche i tuoi figli che giocano in queste squadre. Le cose stanno andando veramente bene, so che ci sono, come ci ha detto Daniele Verniacchi, anche due ragazzi che sono stati selezionati a Roma, che stanno facendo questa esperienza anche con la guida di un grande tecnico come Velasco e credo che già quella è una grande soddisfazione. Una soddisfazione però per la società perché portare questi ragazzi a questi risultati credo che sia un po' il frutto di un grande lavoro, un bel gioco di squadra da parte di tutti i tecnici e di tutti i dirigenti. Sì, assolutamente Mario, questo qua è sinonimo di grande soddisfazione, quindi vuol dire che la società ha investito bene nei propri tecnici, a sua volta i nostri tecnici fanno un grande lavoro nel formare i ragazzi e allo stesso modo riusciamo a portare dei ragazzi nel circuito della nazionale. Abbiamo anche avuto una parte di gruppo del 2007 che ha fatto parte come sotto leva già in questo gruppo che è stato selezionato e sicuramente farà parte quest'estate nella selezione regionale. Ecco, comunque anche le altre squadre stanno andando bene nei propri campionati e tutte potranno raggiungere l'obiettivo di quei campionati regionali importanti, no? Al momento tutte quante le under hanno raggiunto la final four provinciale, qualcuna è già qualificata per la fase regionale e nel giro di 15 giorni inizieranno i gironi che poi porteranno dopo la vittoria del titolo regionale alla partecipazione alle finali nazionali. È chiaro che la società ci tiene a far bene e faremo di tutto per questo mese da stare vicino ai ragazzi, ai propri tecnici, per fare in modo che il risultato possa arrivare. Perfetto e credo l'obiettivo sia quello di magari portare un nuovo bisotto naturalmente alla prima squadra, no? Assolutamente, questo qua stiamo lavorando per fare in modo che qualche atleta possa poi approdare la prima squadra in modo più assoluto. Grazie Alessandro, Anduma naturalmente sempre di più ancora con il settore giovanile. Tra poco andremo a conoscere l'allenatore Samantha Feu, l'allenatore dell'Under 15, un progetto a cui voi tenete moltissimo. Ne parleremo con Samantha e con tuo figlio che è uno dei protagonisti di questa squadra. Tra poco ancora Anduma Show. Amici di Anduma Show, eccoci qua, allora di nuovo a parlare di settore giovanile e con piacere do il benvenuto a Samantha, Samantha Feula che è l'allenatore della squadra Under 15 Rossa insieme a un tuo collega, no? Lo ricordiamo, non è presente ma sei un po' aiutata anche da lui, no? Sì, Marco Garro che siamo già insieme da tanti anni e buongiorno a tutti prima di tutto e noi alleniamo un gruppo fatto principalmente di 2007. Ecco, proprio questa Under 15, so che c'è stato un progetto, che so che la società insomma ha investito molto su questa Under 15, crede molto in questo progetto. Ti senti anche un po' di responsabilità addosso? Quello certamente, poi adesso arrivano le partite importanti, quindi è un momento molto delicato perciò dobbiamo cercare di fare il meglio che possiamo. Comunque i ragazzi stanno lavorando benissimo, è tutto l'anno che lavorano bene. Io due anni ho già allenato metà di questi 2007, invece gli altri 2007 arrivavano dall'altro gruppo di Under 15 che hanno fatto un anno in anticipo. È stato un po' difficoltoso all'inizio mettere insieme i due gruppi, però poi dopo tanto lavoro poi ce l'abbiamo fatto e siamo riusciti a livellarli un po' tra di loro. Ecco, credo che per un allenatore sia veramente anche una grande soddisfazione poter vedere arrivare uno dei propri ragazzi magari in prima squadra o anche come è successo a due vostri giocatori essere selezionati a Roma per uno stage importante, insomma sotto la guida di un grande tecnico come Velasco e credo che quello anche per un allenatore, per chi ha seguito questi ragazzi è anche motivo di grande soddisfazione. Certo, noi lo vogliamo per cercare di dargli più mezzi possibili per fare bene e arrivare più lontano che si può. Il fatto comunque che avevamo degli atleti che si sono allenati fino all'ultima seduta, ne avevamo almeno sei che sono un anno sotto leva, quindi per noi è un grandissimo orgoglio, anche grande stimolo sempre per lavorare al massimo e la vogliamo per questo, la vogliamo per farli crescere, per farli migliorare e per far sì che abbiano un futuro. Ecco, per una donna, insomma allenare questi ragazzi c'è un pizzico di difficoltà in più oppure ti fai sentire perché tu ti vedo carattere ce ne hai? No, guarda, ma poi c'è anche molta stima reciproca, quindi i ragazzi comunque una volta che capiscono come sei fatto, come ti vengono dietro, quindi ti dico, poi a me piace moltissimo, andiamo d'accordo li soprendere, ogni tanto li strattono, ogni tanto gli do la carottina, funziona così, no, però questo è un gruppo veramente molto vivace, però rispecchia tantissimo la mia personalità, quindi io mi trovo molto bene, nel senso che ho molto feedback con loro, perciò, no, no, è veramente bello, è veramente bello allenarli. Allora avete sentito naturalmente anche la campanella che suona, perché tutto, noi siamo qui in diretta naturalmente mentre proprio i ragazzi si stanno allenando e dunque non abbiamo interrotto gli allenamenti, è bello anche vedere tutte le varie squadre che si allenano. Ecco, l'ultima cosa che ti chiedo, Samantha, è cosa vuol dire anche lavorare naturalmente in una società così importante, con una storia gloriosa, che crede molto nel settore giovanile. In questi anni tanti ragazzi, oggi in Italia, per esempio, nei campionati Serie A3, A2 e A1, ci sono tanti ragazzi che hanno giocato a Cuneo nel settore giovanile. Sì, è bellissimo, è bellissimo perché hai delle grandi occasioni, delle possibilità anche magari di fare tornei in giro. Noi abbiamo partecipato inizio anno a un torneo a Modena, poi l'abbiamo rifatto verso Natale, abbiamo fatto la Mama Winter Cup a Nellini, sono tutte esperienze che per i ragazzi sono veramente importanti perché li fanno crescere e quindi comunque la società ti mette a disposizione veramente tutto il possibile per cercare di lavorare al meglio. Io personalmente mi ritengo molto fortunata, ormai sono sei anni che sono qua, sono 15 anni che alleno ed è da 30 anni che sono nel mondo della pallavolo, quindi è una mia più grande passione e lavorare qua è un onore. Veterana, dai. Allora, anche con te, non l'abbiamo mai fatto, perché tu la prima volta che sei venuta il nostro ospite, concludiamo con il nostro slogan, mi raccomando, ti vedo grintosa, concludiamo con Anduma. Anduma! Grazie, grazie a Samantha, grazie a tutti quanti voi, tra poco andremo a conoscere uno dei tuoi protagonisti che è Fabrizio Marino e con lui concluderemo questa puntata di Anduma Show. Ancora per il finale, il finale della nostra puntata di Anduma Show, andiamo a conoscere un giovane di questa squadra, ne ho parlato prima con tuo papà e naturalmente tuo papà è soddisfatto di avere entrambi i figli che giocano tramite il settore giovanile della Cuneo Volley, abbiamo parlato con Samantha dell'Under 15 Rossa che è la squadra dove tu giochi naturalmente anche con tanta soddisfazione, devo dire, no? Sì, esatto, è una grande soddisfazione giocare anche nella prima squadra perché anche in questo modo riusciamo ad affrontare squadre di altissimo livello e la prima squadra di solito è quella che punta un po' più in alto con ragazzi magari che hanno già più esperienza rispetto agli altri. Sì, sono felicissimo di essere il capitano di questa squadra perché è il mio primo anno da capitano e quindi sono felicissimo di guidare questi miei compagni magari anche a vincere. Mi fa piacere anche che naturalmente la società crede molto in voi in questo progetto di questa Under 15 e ha investito molto su di voi. Sì, il nostro obiettivo adesso è puntare a vincere il titolo provinciale innanzitutto perché abbiamo tutte le capacità per battere tutte le squadre nella provincia e adesso vedremo di puntare anche a quello provinciale, quello regionale e poi vedremo se riusciremo ad andare anche ai nazionali, sarebbe una grande soddisfazione. Assolutamente, so che in passato alcune squadre l'hanno fatto e sicuramente insomma con impegno e grande passione come voi avete magari è un obiettivo che si può raggiungere, no? Sì, i nazionali sono una delle esperienze che a me manca ancora quindi andare per me sarebbe un'esperienza fantastica. Bene, grazie Fabrizio in bocca al lupo naturalmente anche con te facciamo una conclusione con il nostro slogan è che Anduma. Anduma! Grazie a Fabrizio Marino, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, oggi Anduma Show in trasferta sia dal palazzetto con l'intervista con il nostro capitano Jacopo Botto e qui dalla palestra dell'Idisse che è ovviamente la casa del settore giovanile della Cuneo Volley. Grazie a tutti quanti voi, grazie amici di Cine Live TV e appuntamento alla prossima di Anduma Show. Grazie a tutti quanti voi.